Sono in dirittura d'arrivo i lavori di rifacimento asfalti sul lungomare di Silvi. Un manto stradale corroso dagli anni e dai tanti interventi delle società di gestione di luce, gas e acqua e dalle potenti radici dei pini che hanno creato pericolosi avvallamenti sulla strada e sulla passeggiata. Per finanziare la realizzazione, l'amministrazione ha fatto ricorso ad un mutuo di 1.500.000 euro. Un'opera attesa da anni sia da residenti sia dalle numerose famiglie che ogni anno scelgono la città come meta per le vacanze estive. Ancora qualche giorno per finire il primo intervento asfalti, un piano asfalto importante, tutto il lungomare, la zona nord e la zona sud e qualcosa anche all'interno. Naturalmente stiamo già ipotizzando un secondo progetto dove andremo a completare le aree che non verranno interessate da questo piano asfalti. Siamo consapevoli che si avrebbe bisogno di un restyling, soprattutto sulle strade, sulla viabilità e stiamo facendo quello che doveva essere fatto. Noi avevamo messo in previsione entro il 15-20 giugno che fosse finito tutto. Diciamo che la ditta sta procedendo veramente in maniera spedita, sta facendo un ottimo lavoro. Noi siamo fiduciosi che per l'inizio dell'estate saremo prontissimi. Dal 15 giugno si tornerà a pagare il parcheggio negli stali delimitati in blu sul lungomare e in via Santa Lucia-Silvi Paese. Per un'ora o frazione si pagherà 80 centesimi e per le successive ore 80 centesimi. La tariffa giornaliera dalle 8 alle 20 è fissata in 5 euro, quella settimanale in 25, quella mensile in 85 euro e la stagionale in 240 euro. Per i residenti è confermata la riduzione del 50%, mentre per i titolari e dipendenti di attività commerciale e di enti il trattamento speciale è di 70 euro per l'intero periodo di vigenza del pagamento della sosta. Questa è una scelta di tutte le città costiere perché sappiamo le difficoltà, però quando riusciamo a recuperare delle risorse e poi le rinvestiamo sul territorio attraverso piani asfalti e abbellimento della città, siamo consapevoli che il cittadino comprende e soprattutto diamo un senso di fiducia a delle istituzioni.